direttamente dalla marmeria con lucianino grande numero uno vai lucianino vai muoviti di più muoviti di più luciani vai che sei un ballerino numero uno direttamente dalla marmeria dirgli fai pubblicità dove vai al mare oggi fai tanti e la ragazza come sono messa ragazzi vai 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 e aggiusti giusti morita e poi la cantante tua qual è giulia molino giulia di marmeria guarda che splendore vai falli vedere vai la valla guarda guarda vai giulia vai fai vedere anche dall'altra parte vai lui è la nostra sicurezza lui è la nostra sicurezza bravo saluta lucianino ciao buon pomeriggio ciao buon pomeriggio ciao 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 ciao